ho trovato goku nell'uovo della kinder ed eccoci qui ragazzi in un nuovo video davide nico allora molto semplicemente devo fare lo zaino per andare a fare il pre release di oggi ho già preparato praticamente tutto raccoglitore con dentro varie carte addestramenti allenatore insomma tutte cose di questo tipo si sa mai che devo fare qualche scambio dadi segnalini e tutto quanto roba molto tranquilli giusto per fare il torneo pre release le bustine con cui coprirò le carte per non rovinarle il treppiede piccolino perché oggi registrerò tutto col telefono non aspettatevi chiaramente un video molto elaborato ma semplicemente magari farò la sbustata e poi vi racconto come è andato il torneo tutto molto tranquillo nuovo kinder mi piacerebbe prenderlo su ma lo lasciamo qui e niente adesso faccio lo zaino siamo vestiti molto comodi molto tranquilli in tuta che oggi si sta comodi e andiamo ok allora ho trovato ma che faccia ma che faccia ma come ti presenti da me l'occhiaie l'ho portata dietro anche loro facciamo così comunque appena parcheggiato è sempre difficoltoso trovare parcheggio ne approfitto per dire che sono a piacenza e adesso vado da magic planet e ho notato adesso che ho davanti una macchina piccolina con la p di principiante il cartello che mettono ai neopatentati ma soprattutto ha una scritta stranissima che forse faccio prima farvi vedere io metto la foto ho paura che quando deve andar via dal parcheggio mi fiammi la mia macchina vabbè incrociamo le dita per tutto e niente volevo far vedere l'ingresso del negozio però c'era gente c'era un po di casino devo ancora andare in casa a pagare quindi check bagno e andiamo avanti con questo video non ve lo aspettavate bagno tra l'altro comodissimo ci vuole in un negozio qui se uno deve fare la pausa tac e via orato io allora allora fermi tutti fermi tutti come avete potuto sentire dall'audio che c'era prima l'audio del negozio è molto incasinato quindi perché vi voglio bene sostituiamo l'audio lo facciamo in fase di editing come potete ben vedere stiamo aprendo il kit di cronoforze vi ho fatto vedere lo scontrino prima per il semplice motivo che parlando un po di numeri per 30 euro voi avete questo kit pre release che contiene quattro buste e un mazzo già fatto che adesso vedrete e tre buste di cronoforze aggiuntive premio che le danno a tutti i partecipanti praticamente e infine avete anche una busta di lega con le carte promo lega che sono sempre carine se qualcuno vuole fare appunto i conti io metto tutto qui e sapete cosa vi danno quando fate un pre release in questo caso in questo negozio ovviamente ci sono altri negozi magari che vi fanno pagare un po meno e vi danno magari una busta in meno cose del genere comunque i prezzi si aggirano intorno ai insomma tra i 24 ai 30 euro una cosa di questo tipo abbiamo aperto il mazzo come potete vedere il mazzo ferrari gator che tra l'altro ho scoperto che sono più di uno i mazzi di ferrari gator ma comunque ne parliamo dopo ci sono dentro qui ferrari gator bell doom carta molto interessante poffin del cuore e le varie evoluzioni essenzialmente niente di più niente di meno qualche carta allenatore le energie tipo acciaio e tipo acqua anche perché ferrari gator chiede solo un paio di energie di tipo acqua per attaccare e poi niente qualche allenatore come già detto i bell doom le varie evoluzioni metang molto interessante metang per questo tipo di mazzo che vi fa assegnare le energie dal mazzo praticamente e basta questo è quello che riguarda il mazzo pre release se vi stavate chiedendo che tipi di mazzi c'erano appunto all'interno di questi scatolini questo è uno dei mazzi e ce ne sono quattro tipi diversi ora iniziamo con la prima sbustata carte la prima bustina carte completamente nuove e vabbè ma non vi dico nulla guardate semplicemente il video partiamo con un bellissimo pikachu l'energia qui controllino per vedere se in fondo c'è qualcosa pikachu saiter silice pedè meril ne spera carta allenatore che potrebbe servire pre release l'altra me lo sono persa ordinazione speciale ponita coda urlante reverse molto bella secondo me molto carina mail metal questa può servire nel mazzo ma attenzione è una carta evoluzione e quindi mi servono i meltan state bene attenti a quello che ho detto adesso perché adesso succederà una cosa e infatti questo torneo andrà abbastanza bene comunque litten sroomish lichitung charger bug dedizione di bell collo ferreo carta interessante licarrock palafin reverse eccolo qui meltan reverse e brambolgast holo carta che non ci serve per il pre release e quel meltan come già detto potrebbe servire in questo caso appunto abbiamo un meltan e un melmetal che si possono aggiungere tranquillamente nel mazzo perché sono carte tipo acciaio e il metang che vi ho detto prima vi fa assegnare carte di tipo acciaio quindi bene vediamo cosa succede in questa busta golet poi lgm un altro meltan evviva nazzleaf colorante sablay eroe ferreo victini bai 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 e coraidon holo questa molto interessante per un mazzo che stavo pensando di fare in futuro dopo la rotazione e niente insomma questo è quanto molto semplicemente tre bustine nulla adesso vediamo la quarta nulla di ovviamente goloso cioè non ho trovato alternative full art robe del genere o carte asso tattico che mi interessano più di tutte vediamo la terza busta slugma sorosis skitti e electabans salvis carta allenatore interessante palafin coda urlante liki liki reverse mediciam e wimshikot holo nulla di che nemmeno nella quarta busta ok è tempo di organizzarsi abbiamo una mezz'ora per fare mazzo o 40 minuti mezz'ora 40 minuti una cosa del genere senza perdere altro tempo io vi faccio vedere molto in breve questa parte di video durerà un pelino meno rispetto a quello prima vi faccio vedere il mazzo che come già detto ci sono dentro i bell doom i totodile e le loro evoluzioni ho fatto qualche aggiunta ad esempio questo collo ferreo qualche carta allenatore molte energie più acciaio rispetto ad acqua e poi oltre a tutto questo sono stato molto fortunato secondo me con i meltan e i melmetal e il melmetal avrei messo addirittura due melmetal e tre meltan però insomma sono già stato ripeto molto fortunato a trovare due meltan e un melmetal da fare appunto le aggiunte a questo mazzo eccoli qua con in mezzo un totodile le faccio anche vedere sì perché è stata particolare questa cosa non è da tutti in altri playlist non mi è successo assolutamente di poter aggiungere pokemon base con la con l'evoluzione insomma qua faccio l'esempio con quella carta allenatore molto interessante che praticamente vi fa evolvere un pokemon anche se l'avete appena messo giù voi andate a prenderlo direttamente dal mazzo ma non deve avere abilità quindi essenzialmente melmetal è perfetto ovviamente sono mazzi talmente semplici e banali che vi dico subito che funziona così praticamente sono un po tutti allo stesso livello all'inizio pensavo fossero ce ne fosse uno un po più forte però essenzialmente dipende tutto da come partite o la perdete sicuro e ve ne accorgete subito perché non bescate le carte giuste e avendo un mazzo più piccolo da 40 carte le risorse sono molto limitate e quindi insomma o vi va male subito e andate a perderla ve ne rendete subito conto o vi va bene e va male all'avversario e andate a vincere voi ma proprio alla grande cioè non è difficile fare una partita attesa in queste situazioni comunque niente ho mischiato come vedete faccio una prova per vedere che carte saltano fuori alla alla prima mano l'importante che ci siano pokemon base qua è andata bene c'era un totodale e un beldum e basta in realtà qualche energia quel cartellinatore quindi diciamo questa mano per iniziare va molto bene però ripeto sono mazzi un po campati per aria molto semplici va bene così molto semplicemente ho fatto le partite tutto non ve le ho fatte vedere in video perché veniva complicato ve lo assicuro e ne approfitto di questo stacco sia per dirvi il risultato sia per dirvi che queste bustine di charizard sono completamente disintegrate e sono da buttare non ho parole qualità pessima comunque molto in breve ho c'erano tre turni ho vinto due partite e ne ho persa una quindi sono arrivato quarto praticamente ed eravamo 15 16 persone soddisfatto ma comunque sono tornei semplici buongiornissimo oggi peggio che ieri la mia faccia dice tutto ma fa lo stesso allora oggi come vedete qua dal vetro sta piovendo tantissimo mi sono lanciato troppo presto perché comunque mi sono lanciato alle otto per essere qua alle nove e mezza adesso vi faccio vedere dove vado oggi e maledetti voi che siete a letto la domenica mattina fino alle 10 mentre fuori piove si stava veramente bene a letto però beh c'è un altro potere ris magari lo facciamo e vediamo cosa succede adesso vi faccio vedere dove sono e poi parliamo di tutto come vedete piove tantissimo ma mettiamo a fuoco la dietro perché oggi siamo la fumetteria comics tower si chiama così perché qua dietro se riesco ve la faccio vedere ma non sta piovendo troppo direi c'è una torre siamo in piazza e quindi la fumetteria si chiama così e niente dato che ho l'ombrello vi faccio vedere piazza quella è la torre senza l'ombrello magari che tempo di cacca però vabbè siamo qua per giocare no andiamo ok torniamo con la voce registrata in fase di editing vi ho appena fatto vedere lo scontrino da 25 euro e quindi abbiamo pagato un po meno di ieri ma vi dico subito che alla fine o comunque durante il torneo ci hanno dato due bustine e una bustina di cronforze e una bustina promo lega quindi una in meno rispetto al giorno precedente ma comunque abbiamo pagato anche 5 euro in meno quindi come ho già detto all'inizio di questo video durante il primo pre-release del weekend si paga intorno ai 25 30 euro bustina più bustina meno i prezzi sono quelli e comunque avete qualche bustina da aprire da sbustare dato che ce ne sono 4 nel kit e qualcuna ve l'anno dopo riassumendo il tutto ora il mazzo non ve lo faccio vedere proprio nel dettaglio perché abbiamo già fatto vedere l'altro precedente del giorno precedente e quindi sarebbe un po' noioso comunque vi faccio vedere tutto non faccio troppi tagli e la sbustata di queste bustine ce la vediamo tutta tranquillamente ok allora prima bustina di cronforze secondo giorno di pre-release vediamo un po' cosa salta fuori no spoiler ne vediamo insieme insieme ai vari artwork nuovi bellissimi secondo me alcuni codicino sidot totodile derling pidov pidove ma dove palafin ne spera colossal meditate reverse arbok secondo me è bellissimo questo arbok e un ferralligator che tra l'altro come vedete da da così c'è il mazzo sealed mi faceva pensare di avere il mazzo uguale identico al giorno prima però no spoiler andiamo a vedere dopo che non sarà così non sarà così e niente comunque abbiamo la seconda bustina qua ovviamente pool nulla di buono anche perché i ferralligator lì avevo già sia promo stamped del mazzo sia le versioni comune sono quelle che stavano del mazzo qui abbiamo bramblin giraffarig roseglia cutifly guida dell'esploratore colosso un altro giungla pericolosa un icans reverse insieme all'arbor di prima fantastico un reuniculus reuniculus e relicant olo anche questo pool veramente orribile perché lo avevo già c'è dentro nel mazzo come ho fatto segno e niente potevo trovare anche qualcos'altro sempre olo cioè non è che volevo chissà che cosa però comunque olo diverse da quelle che ho già e nulla allora altro codicino tartwig per iniziare la terza busta fuciena wigglet artwork secondo me bellissimo arbok ancora giungla pericolosa iniziamo a trovare le doppie non va bene amphizant centi scorch roly colly reverse e e e e attenzione con calma abbiamo qualcosina un pullino ce l'abbiamo un bellissimo bronzor che secondo me è fantastico cioè bronzor così che guarda uno specchio della sua stessa forma e qui abbiamo un bel metal però purtroppo a questo giro non abbiamo trovato i meltdown ve lo dico subito e a parte che con l'immazzo che poi mi trovo non sarebbero serviti tanto e e niente comunque sono contento di questo bronzor l'ho subito messo via nelle bustine e l'ho anche messo poi nel raccoglitore e qui faccio semplicemente vedere che c'è la holo ma ci sono anche le due reverse e in questo caso bronzor ha sostituito la reverse è possibile trovare le carte anche così e le carte asso tattico tra l'altro sono si trovano in questo modo si possono trovare anche al posto del reverse o forse solo al posto del reverse vediamo slugma solosis skitti electabuzz rapidash boltund moodsdale sromish reverse siter e concludiamo con una carta spine ferre allora attenzione spoiler no anzi non vi faccio nessuno spoiler ne parliamo nella seconda parte di questo video dove vi farò vedere il mazzo ok vi faccio giusto vedere il mazzo proprio in modo velocissimo io pensavo ad avere il mazzo che ho utilizzato ieri sempre con ferreri ghettor e con i metang i pokemon tipo acciaio insomma invece no ho un mazzo con i ferreri ghettor e con i pokemon tempo futuro c'è dentro ci sono dentro i miraidon e le spine ferre tra l'altro cosa simpatica dei pre release io ho trovato uno spine ferre holo e in questo mazzo ce ne sono già quattro il numero di copie per ogni carta normalmente sarebbe quattro ma nei pre release attenzione ne potete giocare anche di più io poi non l'ho fatto ma comunque tutto questo per dire che avrei potuto mettere cinque spine ferre all'interno di questo mazzo mi piaceva mi faceva ridere come cosa ma è così facciamo una mano di prova anzi adesso ti inquadro pure ciao linda andate a seguirla su youtube dopo mettiamo tutti i social quindi mi raccomando fatti bravi andate a seguire linda su youtube ma anche sugli altri social io qui intanto faccio una mano di prova molto semplice e sime saluto fare un totoday posso giocarlo non ho altri pokemon base però di secondo turno posso usare marmocchio che mi fa rimischiare le carte quindi ci può stare però vabbè niente di che ovviamente eccoci qua allora sta piovendo è stata una giornata già una giornata una mattinata perché tipo è mezzogiorno e mezza quindi devo ancora mangiare c'è tutto il pomeriggio davanti dove modificherò i video e poi stasera esco ancora e domani mattina lavoro piangerò perché avrò sonno vabbè classico ma comunque allora volevo concludere questo video di questo weekend di doppio pre release uno l'ho fatto sabato pomeriggio a piacenza da magic planet e uno l'ho fatto a stradella sotto pavia essenzialmente da comics tower saluto tutti i ragazzi sia di un negozio che dell'altro tutto molto divertente molto bello i mazzi erano carini cioè molto semplici chiaramente mazzi da pre release e volevo concludere il video facendo una classifica dei mazzi più forti di pre release ma in realtà tutti i mazzi avevano essenzialmente il solito problema o funzionano e vanno subito e consentono di vincere contro un altro mazzo basic abbastanza debole mettiamola così o perdevi secco e non potevi recuperare nei momenti in cui setti un pokemon che fa 120 130 140 150 danni prima dell'avversario diciamo che hai vinto la partita c'è stata qualche partita tesa ma poca roba ho fatto due vinte e una persa a piacenza e due perse e una vinta a stradella quindi stica i premi sono validi per tutti il video spacchettamento delle bustine che ho accumulato che non ho ancora aperto non lo farò adesso se no viene un video troppo lungo ma lo farò nel prossimo video che esce tipo domani quindi seguitemi vediamo cosa troviamo della nuova espansione speriamo in bene carte assottate come interesserebbero molto noi ci vediamo in un prossimo video commentate qui sotto ditemi cosa ne pensate se avete partecipato ai pre-release e usciranno tanti video ancora sul gioco sui pre-release sulle carte e tutto il resto un saluto da vi dico alla prossima e like iscrivetevi solo se ne avete voglia davidico tcg su tutti i social ciao